Le sagre hanno suscitato tante polemiche, c'è stata una riunione anche nella Sala Rosa del Consiglio Comunale, ecco come si concretizzerà allora tutto questo? Allora abbiamo presentato io e il consigliere Stella, presidente della Commissione Sociale e Attività Produttive, perché le sagre riguardano un po' entrambe le cose, abbiamo presentato un emendamento diviso in varie parti dove i punti salienti sono principalmente due, l'aumento delle giornate per le sagre rispetto alla prima previsione da 5 a 8 giorni, frazionabili in due periodi come richiesto dal Comitato Sagre e l'aumento anche al 50% dello spazio disponibile della sagra stessa per la somministrazione, venendo un po' incontro alle richieste appunto del Comitato. Fermo restando che sulla tipicità non siamo noi a mettere tra virgolette dei paletti, ma è la legge stessa che prevede che le sagre debbano attenersi a un menu che rispetti la tipicità del prodotto, chiaramente con una certa elasticità per quanto riguarda le esigenze, penso ai bambini ad esempio che magari una famiglia che va alla sagra ha bisogno anche di un'alternativa, però fermo restando che la tipicità della sagra deve essere importante. Quindi alla sagra della bistecca si serve la pizza o no? Allora, alla sagra della bistecca si serve la bistecca sicuramente e la pizza o altre cose appunto valuteremo, ci sarà una commissione che di volta in volta avrà dei criteri di valutazione, la commissione che la giunta prossimamente istituirà e quindi per tutti gli altri alimenti, altre pietanze che sono diciamo di complemento ci sarà comunque una certa tolleranza, però come dicevo prima, la sagra della bistecca si mangia la bistecca e ciò che riguarda il contorno, una cosa insomma senza andare a fossilizzarsi poi sulle varie cose, però ecco chiaramente un minimo di elasticità ci sarà.